Buon giovedì a tutti, oggi è il 17 agosto, sono le 10.10 e torniamo a parlare di DAX e MIB con l'analisi evoluta. Che cosa è successo questa mattina? Questa mattina ho iniziato a programmarmi, dunque dalle 9.02 e ho segnalato che si poteva iniziare a valutare piano piano un long sempre con tecnica 2 perché speravo che il DAX andasse a chiudere scendendo sotto questo minimo la faccenda, condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del settimanale e anche del T più 2 e mentre il MIB veniva anche egli giù bene, che cosa è successo? Finalmente siamo andati sotto come d'analisi, fantastico. Ho messo i livelli di algoritmo, sono entrato alle 9.38 con un chip, 9.38 significa questa barra qua bella salita, si è rimangiato metà candela, altra candela interessante che è diventata però temporaneamente rossa e ci ha fatto preoccupare perché qui abbiamo questo rischio qua ma poi è arrivata questa candela e grazie a questa candela ho imparato una cosa che avendo messo per sicurezza un take profit quando eravamo in questa situazione, qua in questa zona qua e poi avendo purtroppo, essendomi purtroppo distratto, anche se ho sempre chiesto nel gruppo premium di non scrivere durante i trade a meno che non ci siano così importantissimi, allarmi, centrature che possono far sballare le cose mi sono distratto, ho lasciato il mio take profit dentro e purtroppo sono stato eseguito qua, probabilmente o qua, in questa zona qua comunque, mi sono perso tutta questa salita che può portarci persino a 15.759 che è il target del tecnica 2 long che però è un target dinamico che piano piano scende, ok? Lo ripeto anche in questa occasione, non parlerò mai del tecnica 2, ok? Del nuovo tecnica 2, troppa gente copia, abbiamo visto persone che hanno preso, hanno imparato nel gruppo premium e poi sono andate a raccontare che facevano cicli con Hearst piuttosto che con altre cose e in realtà hanno preso da me senza darmene credito, per cui il tecnica 2, nuovo, il vecchio esisteva già l'aggiornato non verrà spiegato, rimane un'esclusiva del gruppo premium se siete dentro, fate trade come questi, prendete praticamente i minimi e andate a farvi delle belle candele da qua, prendiamo un valore medio, 694, siamo a 747, sono 53 tic di DAX per ora che sapete bene quanto valgono per un contratto pieno o anche soltanto qualche mini, ok? Tutto in 15 minuti? 30 minuti? Ok? Per cui andiamo di nuovo ad aggiornare la statistica Io purtroppo soltanto con un take profit, errore mio che mi sono distratto e non dovevo andare a leggere, ok? Eravamo a 37 su 37, adesso siamo a 38 su 38 E facciamo un passo indietro, ok? Qui oggi ho deciso che sbrago e vi regalo anche i livelli di algoritmo sono questi, sono quelli di oggi, ok? Oggi è il 17, facciamo un regalo a tutti dato che ho fatto un errore, pago in termini di benevolenza nei confronti di chiunque, ok? Qui abbiamo di nuovo avuto un T settimanale che è sceso sotto il minimo da cui è partito, ok? Ecco per chi era goloso il long, anche se era rischioso perché qui siamo ancora in una situazione intermedia probabilmente non è così ma è così, ok? Con qui che non è neanche nono ma per ora potrebbe, non si sa, controlleremo, vedremo ma potrebbe dare vita a un nuovo settimanale, ok? Qui preferisco sempre lasciare comunque il mio punto di domanda perché me lo ricordo ma ci sono tutte le condizioni per la partenza di un T-3 vincolato a ribasso peraltro, quindi operazione rischiosa è quella che abbiamo fatto e però tornando a bomba qui che cosa abbiamo con la candela che non si vede su TradingView ovvero quella di oggi che è tornata sotto abbiamo la conferma che siamo a 30 giorni con la condizione necessaria e sufficiente per rimbalzare, far partire un nuovo T settimanale o anche un nuovo mensile condizione sufficiente, non definitiva, come al solito nozioni di matematica questo è il quarto T, finalmente risolviamo eravamo in bilico ma abbiamo continuato come avete visto lo stesso a fare trading in profitto con un asset line che chiunque nel gruppo premium può entrare e andare a controllare scollandoli in su, quindi senza nessun tema di smentita e ci stiamo avvicinando a questa media mobile a 200 periodi perché è vero che siamo a 6 con condizione necessaria e sufficiente adesso per rimbalzare ma attenzione, facciamo attenzione ai dettagli perché la cosa più importante è quella come io non dovevo distrarmi noi siamo alla settima barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quindi abbiamo veramente la condizione non ci interessa il colore della prossima barra ok? e si può risalire ma, ma, ma come di consueto vedremo l'entità del rimbalzo quali saranno gli swing che saranno violati quali saranno i volumi e tutto il resto per vedere che il quarto T-3 non vada avanti fino all'undicesimo giorno continuando a rimbalzare poco e continuando a scendere ok? oppure anche partisse un quinto T settimanale che ci sta perché avremo 13 giorni per continuare questo mensile quindi può continuare a rimbalzare poco far partire un settimanale e continuare a scendere ok? noi però faremo attenzione a tutto il resto quindi anche questa sarà un'analisi che dovreste incorniciare per quanto riguarda il discorso di quanto do nei video gratuitamente a livello di teoria ok? qui abbiamo un 8 più 1 2 3 4 siamo al quinto T ok? inverso per cui se non quinto T inverso quinto giorno del secondo settimanale inverso duplichiamo questo settimanale inverso lo mettiamo qua ok? ed essendo arrivati al 1 2 3 4 5 quinto noi possiamo presumibilmente aspettarci che cosa? aspettarci anche che si salga per un altro giorno oggi e domani probabilmente perché? per far partire il quinto settimanale o un nuovo settimanale da qui e andare verso una chiusura a 6 di T inverso ma ribadisco questa può essere una delle strade ci sono talmente tante variabili che come al solito fanno trade con gli swing ok? con i vincoli con i volumi e con il tecnica 2 anche perché come vedete siamo molto vicini probabilmente è sceso ancora il target dinamico ma abbiamo fatto quasi 60 anzi più di 60 tic in 30 minuti ok? non è poco direi per il resto ragioniamo sempre di questo punto di domanda i livelli d'algoritmo questa volta ce li avete anche voi tutti insieme passiamo al Mib Mib situazione molto simile qui abbiamo avuto la possibilità che per il tempo sia difficile ok? facciamo così punto di domanda molto difficile anche qui dato sempre comunque nel gruppo premium il long dove è finito Mib 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 vediamo l'orario in cui l'ho dato abbiamo detto per avere tutto corretto abbiamo detto abbiamo detto abbiamo detto ecco qua 9.40 perfetto andiamo a prendere 9.40 sul grafico 9.30 9.40 siamo entrati qui ok? siamo qui non so se avete compreso dal vivo ok? quello che e vediamo se tra l'altro ci arriva perché sarà sceso magari di qualche tic ma è sempre lì il nostro target piano piano scende magari ha fatto così ok? però siamo in zona su Mib che cosa ci diciamo? ci diciamo che e questa è una cosa su cui riflettere questo minimo non è stato ancora violato vogliono fare come Dax? rimbalzo del gatto morto settimo t-3 e si scende sotto lo vedremo a breve a quanto siamo di inverso peraltro? anche in questo caso prendiamo da qui qui possiamo chiudere a 19 bar di inverso? no stiamo chiudendo l'inverso qui per cui chiuso l'inverso con un baffo e poi vediamo che spinta avrà il quinto t-3 inverso e ci spingerà sotto questo minimo qua come abbiamo visto su Dax che potrebbe fare da precursore è finito sotto questo qua e guardando la situazione a livello daily noi abbiamo per adesso che la previsione che vi davo di rimbalzino e discese è stata perfetta rimbalzino con questa candela del 10-8 e poi solo discesa con candele verdi tra l'altro fatta cioè cercano di fare di tutto ma noi continuiamo a guadagnare e la statistica l'avete vista prima qui siamo un passo siamo veramente solo un passo vediamo qua 6 barre perfetto se questa diventa rossa e chiude rossa e andiamo sotto questo minimo avremo anche qui in giornata la condizione necessaria e sufficiente per chiudere questo mensile per chiudere il trimestrale con abbondanza e per far partire qualche cosa di più interessante poi ma attenzione perché la condizione sufficiente può continuare a scendere per far partire qualche cosa da questo massimo e per ora quanto siamo arrivati di discesa siamo sotto da 12 giorni 12 giorni uguali a un t più 1 lancio un t più 3 ok? come swing ne abbiamo violati un po' per cui come tempo siamo già a questo livello qua nonostante le barre verdi ma anche in questo caso analisi corretta direi che davvero vi ho regalato tutto compreso i livelli di algoritmo dateci un'occhiata vedrete se sono validi oppure no e vi ringrazio per il vostro tempo nella classica tradizione di agosto preferisco dare gratuitamente a chiunque per comprendere oltre i video che cosa si può fare con l'analisi la mia analisi evoluta marchio registrato chi non la conoscesse ancora playlist trading days corso fatto da oltre 29.000 persone e gli iscritti al canale sono quasi 16.000 completato da meno di 7.000 con questo avete davvero tutto video vi è piaciuto mettete un bel like mentre stiamo per arrivare a livello dato e auguro a tutti una splendida giornata per me è già splendida perché ho imparato ancora una volta che la permettere a qualcosa di esterno a me di distrarmi non mi permette di guadagnare quanto potrei se facessi solo attenzione al trading anche se vengo magari disturbato da qualche parte da qualche altra la mattina un po' così le prime candele non sono eccezionali eccetera eccetera è comunque un'opportunità di crescita per me riconoscendo che ho fatto un errore grazie a tutti buon giovedì 17 agosto godetevi anche i livelli di algoritmo arrivederci se l'analisi vi è piaciuta like iscrizione al canale arrivederci